Un documento molto deludente, il documento strategico per eccellenza e la giunta, la giunta lenta, quella di Marsilio, di fatto non prevede nulla. Non sono iscritte le risorse del Recovery Fund, ben 4 miliardi di euro per la nostra regione, così come non ci sono le risorse della nuova programmazione 2021-2027 per quanto riguarda le risorse europee. E' soltanto l'aggiornamento del documento economico e finanziario della scorsa legislatura, tant'è vero che presenterò l'emendamento chiamandolo DEF 2016-2018. Davvero siamo al ridicolo, non c'è una sola risposta che attendono le nostre imprese, le nostre attività, i nostri commercianti, le nostre famiglie. C'è soltanto l'aggiornamento per quanto riguarda il Cura Abruzzo 1 e il Cura Abruzzo 2 e neanche qui troviamo le risposte. Le risorse che avete promesso agli abruzzesi, quando arriveranno, neanche in questo documento c'è la risposta, per non parlare della sanità. Si è fermi alla rete ospedaliera precedente e nel DEF si scrive, dobbiamo scrivere la programmazione, la rete ospedaliera, il nuovo piano sanitario 2019-2021. Cioè andremo ad approvare un piano 2021-2023 essendo addirittura in ritardo di ben due anni su tutto quello che è la programmazione sanitaria. E d'altra parte i temi dell'urgenza e dell'emergenza per come sono stati trattati da Marsilio e dalla Giunta Lenta la dicono lunga. Per finire ovviamente non ci sono i 14,4 milioni di euro per il Napoli, che è l'altra chicca purtroppo che ha contraddistinto questo governo regionale in questo anno così difficile. Nessuna risposta per gli abruzzesi, nessuna visione, non si scrive, non si dice nulla anche delle centinaia di milioni di euro per i fondi europei, dei miliardi di euro per il Recovery Fund che invece tutta la nostra comunità attende di conoscere e sul quale chiede di potersi confrontare per riprendere un cammino di sviluppo e di crescita tutti insieme.